Vaporella Instant è il nuovo ferro da stiro generatore di vapore di Polti con Instant Steam Technology, una tecnologia innovativa e brevettata che crea vapore in pressione all'interno del ferro, permettendoti di stirare in poco tempo e con facilità. Ma non solo, Polti Vaporella Instant è infatti progettata per risparmiare e durare. Con la funzione Eco puoi risparmiare acqua ed energia, un bel vantaggio in tempi di caro energia e di bollette alle stelle, mentre l'utilizzo del filtro anticalcare allunga la vita del ferro e ne mantiene l'efficienza nel tempo. Ma andiamo subito a scoprire meglio gli assi nella manica di Polti Vaporella Instant. La tecnologia Instant Steam Technology è composta da una doppia camera separata che genera e mantiene il vapore in pressione all'interno del ferro, rilasciandolo istantaneamente appena si preme il tasto Vapore. In questo modo puoi ottenere subito vapore immediato e potente senza ritardo alla pressione del tasto e quindi puoi stirare in meno tempo con risultati perfetti fin dalla prima passata. E con l'ampio serbatoio da 2 litri ricaricabile in ogni momento potrai portare a termine le operazioni di stiro senza interruzioni. Anche l'utilizzo è semplicissimo grazie ai tasti sull'impugnatura del ferro e al display digitale che indica la funzione selezionata tra le quattro disponibili, max, media, eco e stiratura a secco, oltre che le spie di manutenzione e autospegnimento. Meno tempo sprecato, semplicità d'uso ma anche risparmio e durabilità, riduzione dei consumi di acqua del 68% e di energia del 60% con la funzione eco rispetto alla funzione max, per ottimi risultati di stiratura ed efficienza nel tempo grazie all'utilizzo del filtro anticalcare. E per finire, Polti Vaporella Instant ha una piastra arrotondata con tecnologia 360 gradi Fluid Curve che consente movimenti multidirezionali anche all'indietro, con canali di distribuzione omogenea del vapore per una stiratura più rapida e scorrevole e punta di precisione per arrivare nei punti più difficili come i colletti e i polsini delle camicie o nell'aria attorno ai bottoni. Polti Vaporella Instant. Vapore immediato? Risultato assicurato.